Ecco questo è il mio impianto di luci da studio, in pratica erano delle lampade principalmente a lampade fluorescenza tutte comandate da una centralina che è questa qua sopra, proprio a norma di legge senza neanche messa a terra e oltre a questo tutto comandato con arduino parliamo del 2012 circa 2013 quando installai queste lampade visto che ormai sono superate e ho acquistato nel tempo anche dei faretti professionali a led è giunto il momento di sbarazzarmi di tutte queste vecchissime lampade e soprattutto anche di rimuovere le luci da circo perché effettivamente è così cioè alla fine una stanza piena di led se sono troppi sono esagerati questi led avevo in mente di utilizzarli per altre cose e quindi è giunto il momento di rifare completamente l'impianto luci tenendo solo il minimo indispensabile forse terrò solo questi led che principalmente sono quelli sul mobile e per il resto non li utilizzerò neanche più e questa è un secondo la nostra camera quindi direi di iniziare a smontare tutte queste lampade abbiamo tolto finalmente tutto dopo tantissimo tempo rivedo il soffitto incredibile e a parte questo ho colpito tutto tranne quello che non dovevo colpire allora ho distrutto il rack ho preso dentro la stampante nuova cioè ho spaccato il paraluce insomma ho fatto un po' di danni però almeno sono riuscito a smontarlo più o meno adesso devo capire bene questi led come farli passare senza avere un tubo ma forse ho già un'idea adesso ho risuotato il letto ho messo tutte le scatole in più qua sopra così ho svuotato anche qua sopra qua in alto ho svuotato tutto e adesso tipo dovrò fare una pulizia mega enorme e mi è venuta anche un'altra idea al posto di mettere a parte queste luci qua che poi le mi nasconderò dietro avevo in mente di tirare come Leonardo Voxx i led che partono da un lato e arrivano dall'altro lato in modo che così questo cavo che principalmente arriva sul letto risale poi ritorna su lo facciamo passare come se fosse appunto una striscia led così almeno non si dovrebbe vedere una cosa orrenda e tutto quindi niente adesso inizierò a procedere con il resto e a togliere anche tutti i ragni che tipo uno è lì scusate uno è lì da quando ho spostato uno è lì uno è qua sopra cioè praticamente è una famiglia di ragni di là ce n'è un altro e qua sopra ne ho un altro ancora c'è una famiglia ragazzi ed ecco qua adesso il muro è stato un secondo rinnovato ovviamente questa pensilina non è appoggiata solo a delle semplici VHS ragazzi quindi andate tranquillo prima che oh mio dio che cacchio di pensilina non hanno ormai fatto in realtà è tutto calcolato al millimetro dentro ci sono delle vecchie cassette inutilizzabili e cosa ho fatto semplicemente ho inserito un tassello lungo così per quelle scatoline ma poi tra parentesi lì sopra non c'è praticamente nulla di pesante peserà tutto forse un chilo se tutto va bene infatti come potete notare tra parentesi là se manco si sta stortando tra questo e questo lato abbiamo messo tutta roba di elettronica qui ora c'è un macello che sto tentando di risolvere questo schermo volevo spostare sopra cioè insomma ci sono tante cose da sistemare poi sto recuperando altre strisce a led che appunto poi attaccheremo in sto modo qua sopra però si è staccata mannaggia dopo circa tre ore di puro lavoro tra cablaggio e tutto questo è il risultato più o meno ci siamo adesso è a livelli un pochettino accettabili ci speravo magari questa strisce di non farla separata ma farla unica ma ho notato che lo scotch non tiene più di tanto il biadesivo quindi ho dovuto fare così però la luce che fa mi piace veramente tanto perché come potete vedere è ben illuminato ed è veramente ottima come cosa